Il nostro compito, il nostro dovere è quello di fare 9 partite, 10 partite al massimo, di cercare di vincerle tutte. Poi quello che succede vediamo. D'altro è quello che proviamo a fare tutte le domeniche, poi ti può riuscire meglio, ti può andare peggio, però l'impegno penso che questa squadra non mi sia mai mancato. Io sono arrivato, ripeto, sono arrivato da poco, però sentire a gente che critica anche ragazzi che l'anno scorso erano idoli, potevano fare stato e in questo momento criticarli mi sembra un po' sbagliato. Ci sta, ci sta che dopo una brutta prestazione, ci sta che dopo brutte per partite, giustamente esponi i tuoi pensieri. Però da qui a criticare un allenatore, che comunque mi sembra che da quando allena ha sempre fatto bene, quindi è una squadra che lo scorso anno, ripeto, ha fatto quello che ha fatto. Io penso che da come sono partite le cose inizio anno, chiunque avrebbe messo la firma per arrivare come siamo adesso. La Carrarese, purtroppo mi è capitato anche a me in passato di trovarmi in una situazione del genere e posso garantire che in quelle difficoltà ci si unisce, cioè una squadra si unisce sicuramente. E non è mai facile incontrare squadre che hanno una rabbia che va al di là del calcio, perché come in campo riporti tutto quello che sono i problemi della settimana, quindi sicuramente incontreremo una squadra con quella mentalità. Però non c'è da nessuno, che sia Carrarese, che sia Juventus, che sia... Ripeto, dobbiamo farla nostra, in qualsiasi maniera, sia che siamo belli che sia brutti, dobbiamo farla nostra.